Ieri c'era la fila per acquistare i prodotti in scadenza, quindi praticamente le persone hanno acquistato anche voi? Acquistato anche noi? No, noi non siamo in scadenza. Siete rimaste male? No, ci siamo rimaste male perché comunque c'erano tante persone che forse non avevamo mai visto e se noi oggi andiamo a casa è perché comunque oltre all'azienda in noi forse non ci hanno creduto neanche i clienti, però poi il commercio è questo, è giusto che sia così nel senso che comunque c'erano tante persone, l'autoletta era in sconto, il supermercato è quasi vuoto, questo non ce lo neghiamo, quindi questo è un film che avrà una fine perché noi non riceviamo più merce dal 6 di settembre, quindi lavoriamo sui prodotti a lunga scadenza, con le rimanenze che ci sono. I freschi continuano ad arrivare per dare un minimo servizio, quindi non abbiamo una lunga autonomia. Quanti giorni mancano? Al primo ottobre? 20 giorni. Io praticamente volendo andare a lavorare fuori perché potrei andare, potrei decidere di andare a lavorare ad Ancona, perché no Pesaro, potrei dire ok bene ci rimettiamo in discussione, con mio marito decidiamo di andare via, però io ho i figli a scuola che lunedì sono tornati a scuola, quindi dovrei andare sul posto, trovare una nuova scuola, trasferire i miei figli, ricomperare i libri, non sono più io il problema, il problema è grande, siamo 3, 4, 5 persone a famiglia che comunque ad oggi il tempo tecnico per andare in un'altra, noi può darsi pure che decidiamo di, per portare a casa la pagnotta, di andare fuori, ma non ce lo possono dire il 30 settembre, il primo ottobre alle 6 di mattina, devi stare ad Ancona. Gli scaffali vuoti, che effetto fanno? Fanno un bruttissimo effetto, proprio brutto, brutto, brutto. La cosa più brutta che a me, almeno, fatto proprio brutto, io ieri sono scesa nel punto vendita, è vedere quella ressa all'outlet, cioè 15 vendi carrelli di fila, per prendere quelle 4 cose scondate al 50%, guarda, quella è stata la cosa che mi ha fatto più male. Oltre 20 anni di lavoro, e poi si termina con una ressa che poi sancisce la fine del vostro lavoro. Quella è la cosa che ci dice, guarda, avete finito, siete finiti, per noi non ci siete più, quello è, no? Quando si mette tutto al 50%, che poi diventerà 80%, diventeranno 10 centesimi, no? Perché alla fine è di togliere tutto. Testachina, perché? Come testachina? Testa abbassata, un pochettino. Testa alta, testa alta. Ti siete rimaste male a vedere l'arressa? Immagino, cioè, mi è sembrato come un episodio di sciacallaggio, però è da capire anche quello, perché c'è la crisi. Comunque, tanti clienti abituali continuano a chiederci il perché, a protestare, il per come, perché io poi sono una cassiera, quindi li incontro anche da quell'altra parte, e noi cerchiamo di spiegargli le nostre motivazioni. Per noi è stato proprio un fulmine al ciel sereno.